vieni qua con questa telecamera per favore prendi sto trapezio per favore stai prendendo entra tutto ma vai 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 più lontano che non può entrare vai 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 sono fuori di testa sono fuori di testa Matteo vai dietro dal favore che non può entrare sto trapezio perché il trapezio è fuori di testa non può entrare entra non entra entra non entra entra non penso proprio sono in diretta Matteo sono in diretta lo vuoi sto trapezio lo vuoi sto trapezio e prenditi sto trapezio per favore e becca di sto trapezio per favore entra non penso vai dietro per favore non entra sai lo vuoi che cosa Mac lo vuoi ma che cosa lo vuoi prendetelo sto trapezio prendetelo sto trapezio sei carico? sei solo carico Fede entra non entra Mac non entra entro sto trapezio non entra Mac entra vai dietro vai dietro entra entra adesso Mac adesso entra trapezio non entra sto trapezio non entra non entra c'è Grazie a tutti.